Benvenuti a meteogiulianci.it, domani venerdì 19 luglio, ancora tempo bello soleggiato al centro-sud, ma farà anche caldo in aumento per il ritorno dell'anticiclone nordafricano. Rovesci temporali sparsi invece sulle Alpi per l'arrivo di una prima debole perturbazione atlantica. Ma vediamo la mappa del satellite virtuale, vedete l'Italia sgombra da nuvole eccetto una perturbazione, a nord delle Alpi che appunto lambisce in parte anche la cerchia alpina. Che tempo allora farà nella giornata di domani? Vedete molti simboli di sole sulle regioni centro-meridionali, sulle regioni di nord-ovest, rovesci temporali sparsi invece soprattutto nel pomeriggio e in parte nella sera sull'arco alpino e sulle Venezie qualche isolato rovescio pomerigliano anche sui rilievi abruzzesi. Ma vediamo le temperature, le temperature saranno sul nord d'Italia intorno a 30-32 gradi tranne l'Emilia Romagna, 32-34 gradi sul resto d'Italia tranne qualche punta di 35 gradi sulla Puglia e sull'est della Sicilia. Bene termino qui, vi ringrazio per l'ascolto, ancora un buongiorno.